Comunque mi interessa sapere ad esempio cosa pensa, se ritiene credibili queste ultime accuse nei confronti di Gianfranco Fini, appunto il finto attentato, la escort Rachele che Fini ha denunciato. Sei persi da lui, perché sono notizie che sono uscite sul Libero, per questo glielo chiedi, perché vuoi che parli male di Libero. No, 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 non è questione, sono uscita anche sul giornale, no, non credo alla questione dell'attentato, o meglio, è una cosa talmente fumosa che io immagino ci siano in giro pazzi del Paese che ipotizzano anche tra sei mesi di attentare a chissà chi, ma insomma non mi sembra un piano pronto, preparato, organizzato, una minaccia reale per il Presidente, ammesso che sia tutto vero al Presidente Fini. Per quanto riguarda la escort, noi siamo stati i primi a denunciare l'imbroglio, perché siamo anche stati tra i primi a visionare il famoso filmato con la testimonianza e la cosa onestamente puzza lontano un miglio, non c'è nessun riscontro, non c'è nessun indizio che renda credibile il racconto di quella escort. Ma verrà che un direttore come Belpietro non è in grado di valutare giornalisticamente una notizia? No, Belpietro per la verità ha scritto che girava questa voce, noi abbiamo aggiunto noi del giornale il contenuto di questa voce dicendo chiaramente che non stava in piedi. A proposito, quanto al presunto attentato nei confronti proprio del direttore Belpietro, quali sono le ultime notizie che voi avete? No, noi siamo fermi a quello che abbiamo scritto, cioè che in procura, che le indagini sono praticamente terminate, c'è molto scetticismo nel ritenere attendibile l'attentato, ci sono troppe cose che non vanno, non ci sono riscontri. Scusi, per fare l'avvocato del diavolo, non è curioso che questo vostro attacco è arrivato dopo che Feltri è andato al libero? A me sentire un giornalista come Telese parlare di attacco, mi sembra... No, 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 un giornalista come Telese può parlare di tutto. Ma perché deve essere... Scusa, la notizia era vecchia di due mesi? No, ma sai che è una cosa... No, 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 la notizia non è vecchia di due mesi. La notizia non è vecchia di due mesi. La notizia non è vecchia di due mesi. I giornalisti o il giornalismo viene attribuito a chissà chi. No, no, io lo attribuisco a lei. È vero che l'attentato è vecchio di due mesi ed è stato sulle prime pagine di tutti i giornali, ma come tutte le cose poi hanno dei seguiti e accadono delle cose. Ecco, noi abbiamo saputo che la procura aveva intenzione di non procedere perché la cosa non sta in piedi. A me sembra una notizia e l'avrei pubblicata e avrei chiesto a Feltri, che era lui, che ne dica Bocchino, il numero uno del giornale, l'avrei chiesto di pubblicarla anche con Feltri lì, perché è una notizia. Però senta, tra accuse affini, anche di questi giorni, la notizia di presunte cimici nell'ufficio di Bosse, nella sua casa romana, c'è un po' un clima, oggi si parlava di casa a suo quadro anche per il ministro Rotondi, con telefoni, condizionatori smontati, mobili distrutti, c'è un po' un clima da fin di spionaggio, di serie B, pieno di incongruenze, di buchi di sceneggiatura? Sì, non c'è assolutamente un bel clima e credo che nel mondo della politica non da oggi circolino faccendieri, personaggi strani in cerca d'autore, il cui scopo è di fare pasticci, creare confusione o alimentare... non credo che abbiano dei mandanti, io credo che agiscano veramente improprio, ma questo credo che ci sia in tutti gli ambienti e in tutte le famiglie. Per noi giornalisti è molto difficile, come ben sapete anche voi, discriminare tra il faccendiere pasticcione che sta cercando di vendere una polpetta e invece chi ha una notizia attendibile. Basterebbe verificarla, no? Allora, una domanda io, una Luisella, la mia è, in questa guerra all'ultimo sangue, fra Libero e il giornale, in questo momento chi ha perso copie e chi le ha guadagnate? Secondo lei, ovviamente uno dei due contendenti. Ma sicuramente Libero ha guadagnato delle copie perché ha tutto l'effetto, il clamore mediatico dell'uscita di Feltri e poi non dimentichiamoci che Feltri è un giornalista che ha delle copie sue che sposta. Dicono 10.000, è verosimile? È possibile, sì, non ho i dati certi di Libero, ma è possibile. Nonostante queste 10.000, il giornale resta di gran lunga, ma molto di gran lunga, il giornale più venduto dell'area del centro-destra. E voi ne avete persi? Avete tu una domanda sola. Abbiamo avuto una flessione di circa 3.000 copie, che tutto sommato, avendo perso Vittorio Feltri, Grazie a tutti.